Buongiorno a tutti, per me quello fu un giorno, io ho scritto una giornata come tante, perché quel giorno io andai a scuola normalmente, fui svegliato da mia madre, andai a scuola e feci la mia vita solita, ero del tutto ignaro di quello che era successo, di tutto il trambusto che era successo nel frattempo, dopo l'omicidio, la camera ardente e tutto quanto, e dopo la fine delle elezioni venne a prendermi il figlio di una nostra carissima amica, che c'è anche nel documentario Rita Di Leo, che tra l'altro era una sovietologa, era una sovietologa, era una grandissima amica di mio padre, perché chiaramente mi venne a prendere il figlio, io andai a giocare al computer con lui, c'era il Commodore 64, e sono stato a giocare al computer fino alle tre, le quattro di pomeriggio, poi a un certo punto viene mio zio e mi dice ah tu devi scendere e scendere, dice che pizza, non mi va, insomma, ma perché devo scendere, dai? No, è successo qualcosa di brutto a tuo padre, dico che che gli è successo, è andato all'ospedale, è andato all'ospedale, che ci ha avuto? Ma una cosa grave, non lo so, insomma io vado a casa e trovo sulle scale di casa mia madre che piange, insomma c'era un sacco di gente, dico ma che è successo? Insomma mia madre, entriamo in camera e mi dice, sul letto appunto, c'è quello che dice mia madre, mi dice guarda tuo padre è stato ammazzato dall'EBR, io che quel giorno, insomma lì ho avuto una reazione di pianto, ma quella fu l'unica occasione in cui mi commossi, perché in realtà a me non, diciamo, la reazione che ho avuto è cercare di rimuovere tutto, ho detto, cioè ho avuto un po' una reazione psicologica di cercare di dimenticare, di dire ormai quello che è successo e successo, a me non è stata data la possibilità di vedere il cadavere di mio padre, cioè quindi anche in qualche, come se io che non mi sono potuto nemmeno rendere conto, cioè questo è anche la funzione, quando c'è una persona defunta dell'esposizione del cadavere, di far rendere conto alle persone, di venire a patti con la realtà, io non ho avuto la possibilità di venire a patti con la realtà per moltissimi anni e quindi mi sono trovato improvvisamente proiettato un po' in questa dimensione pubblica di cui io sono con gli articoli dei giornali, con mio padre che è stato un po' oggetto anche di una sorta di battaglia simbolica, perché in qualche modo c'erano i comunisti che cercavano di difendersi, i socialisti che andavano addosso ai comunisti, la CISL che ha cercato in qualche modo di impadronirsi, intorno a questo cadavere c'è stata una lotta vera e propria, la CISL ha cercato di prendere per sé questo cadavere, mia madre invece si è battuta e ha detto no, mio padre era un uomo dell'università, delle istituzioni, non apparteneva a nessuna istituzione, la cerimonia si fa nella camera ardente e si allestisce all'università e quindi mi sono trovato un po' proiettato in questa situazione un po' strana e da quel momento non so, ho avuto un vero e proprio processo di rimozione, proprio bianco totale e mi sono trovato sul palco allestito sulla piazza del verano, in mezzo a tutte le autorità pubbliche, i discorsi e io ero quasi un pezzo di ghiaccio, non so come dire, c'era il presidente, c'era questa piazza che a me sembrava immensa, piena di gente e poi se la vado a rivedere oggi, piazza del verano mi sembra 10.000 volte più piccola di quanto mi sembrava allora e poi ci fu tutta la cerimonia e poi niente, insomma, che cosa è successo? Che mia madre stessa in qualche modo piano piano è entrata anche lei nella sfera pubblica perché era una professoressa universitaria, la prima cosa che ha fatto è cercare di andare in carcere e hanno organizzato con Gino Giugni, con Norberto Bobbio e con altri, con i carcerati, tra cui molti ex terroristi pentiti, sia un dialogo che delle forme di conferenze sul riformismo. Mia madre da quel momento in poi si è sempre occupata, lei già era una femminista storica dal 68 ed è psicanalista, ha iniziato a occuparsi del tema della violenza, lei ha dedicato tutta la sua vita da allora ad oggi al tema della violenza e al tentativo di risolverla, di analizzarla sotto varie forme. Quindi dopo un paio d'anni le fu proposto di entrare in Parlamento. Per me, tutto sommato, quegli anni, nonostante la tragedia, la cosa, c'era tanta gente intorno a me, questo me lo ricordo, e c'erano tante persone che è sempre disponibili, mi ricordo tanti atti di generosità, la casa nostra era sempre piena, poi abbiamo incominciato, era anche molto frequentata dopo un po' perché venivano parlamentari, poi abbiamo fatto amicizia anche con diverse persone, tra cui Tina Anselmi che è diventata stabilmente nostra amica, non so se loro sanno chi è Tina Anselmi. Tina Anselmi è stata la Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia P2 in Italia, Commissione parlamentare di inchiesta, la loggia P2 è stata diciamo una loggia massonica prima pubblica, ufficiale, poi segreta, guidata da Licio Gelli, personaggio che su Firenze diciamo ha avuto una certa, anche perché abitava qui vicino, tra Arezzo, Firenze, si muoveva da queste parti e ha influenzato parecchio la vita politica italiana anche perché molti sia uomini politici che esponenti dei servizi segreti di quella stagione erano iscritti a questa loggia massonica segreta. Io però, un'altra cosa che volevo chiedere a Luca era la scoperta, abbiamo detto che Tarantelli viene ucciso come simbolo di una politica e come simbolo del riformismo, mentre invece era appunto anche un genitore, un papà. Tu a un certo momento sei andato alla scoperta dell'uomo pubblico, anche per realizzare questo film e poi dopo esatto, allora io volevo chiederti proprio questo, cioè tuo padre come l'avevi conosciuto tu come uomo privato e invece l'uomo pubblico che hai scoperto dopo, anche, non grazie, ma insomma a causa del fatto che era stato assassinato da un gruppo politico terroristico. Diciamo, mio padre era un uomo che aveva una principale caratteristica di essere molto cocciuto e determinato e di essere molto, cioè era un padre, non è che si può, quando si parla di mio padre, distinguere, non sono proprio tracciate nettamente la distinzione tra l'uomo pubblico e l'uomo privato, perché quello che lui era in privato lo era anche in pubblico e quello che era in pubblico era un po' una proiezione di quello che lui era in privato. In che senso? Nel senso che sia come educatore, lui trasferiva, era una persona che era uscita, ha avuto delle enormi difficoltà, si è forgiato il carattere da ragazzo in mezzo a molte difficoltà, perché il padre era un banchiere, veniva da una famiglia ricca, questa banca è fallita e lui ha sperimentato un po' la disoccupazione, quindi sin da giovane si è caricato sulle spalle la famiglia e ha sviluppato quindi anche un po' questa coscienza sociale del doversi arrangiare, doversi, dover andare un po', dover trovare soluzioni, un po' del dover andare oltre, come posso dire? Lui cercava, era una persona che come dialogava con me, come mi insegnava, anche giocando a pallone per esempio, mi insegnava a migliorarmi, perché lui stavo in porta, lui attraverso mille esempi, così aveva sempre un approccio dinamico con gli altri ed era sempre una persona che trasmetteva molto ottimismo, quindi era una persona che lavorava moltissimo dalla mattina alla sera, ma quando c'era, era uno che faceva sentire la sua presenza, come educatore, come ispiratore e anche come persona che riusciva a mettermi in riga, perché io magari divagavo spesso e lui invece riusciva a mettermi sotto e a farmi, una volta in prima media vide la mia pagella, disse qui non va bene, tu qua da questo momento in poi ottieni risultati o studi o niente, e quindi mi mise realmente sotto, tutti i pomeriggi, una domenica pomeriggio me lo ricordo ancora a casa di mia nonna, dovevo risolvere un problema di matematica e non ci riuscivo e lui mi costrinse a rientrare nella stanza finché non fossi riuscito da solo a risolvere quel problema e come posso dire? Sì, ho scoperto la figura pubblica soprattutto di studioso, perché poi è di studioso e di uomo insomma, anche perché sì, chiaramente non conoscevo tutta la sua parabola di uomo che poi ha avuto una traiettoria di intellettuale libero, perché mio padre se c'era una cosa che ha sempre rifiutato era la disciplina, la gerarchia, lui ha sempre voluto confrontare, per esempio ha preferito sempre l'insegnamento, preferiva insegnare ai giovani piuttosto che far parte di un'organizzazione come la Banca d'Italia, che pur essendo un'organizzazione molto prestigiosa, però in Banca d'Italia ti dicono tu devi fare X e Y e tu fai X e Y, invece se tu stai un po', sei come mio padre mio padre faceva cinque lavori contemporaneamente, cioè era consulente del sindacato, della Banca d'Italia insegnava in diverse università anche negli Stati Uniti, sia in Italia che negli Stati Uniti poi scriveva nei giornali, quindi aveva questo suo modo di giostrarsi e soprattutto di essere anche curioso e aperto rispetto agli altri, perché molte delle sue, per esempio anche nell'ambito del suo lavoro, lui non si è mai fermato alle formule matematiche, anche se poi ha sempre cercato di includere, di studiare l'economia da un punto di vista più ampio dei processi sociali ed economici, cioè la sua curiosità non è mai stato uno che rimaneva confinato nella sua disciplina e infatti faceva parte poi di diversi gruppi di studiosi, di sociologi, di economisti, di antropologi, di persone con cui... ed aveva sempre questa curiosità continua di apprendere da tutti, di apprendere e di discutere con tutti. Lui discuteva con il Presidente della Repubblica ma spesso si confrontava, io l'ho visto più volte anche con i disoccupati napoletani o con altri, cercava di prendere spunti, di sentire, di sentire quello che gli altri avevano da dire e poi di... insomma... e poi anche di convincere, sì, questa era la sua... la sua cosa, quando lui aveva, sviluppava queste sue idee forza, no? Come la predeterminazione o altre, era... insomma, faceva delle vere e proprie campagne, da solo, insomma, senza avere dietro delle grosse organizzazioni o delle cose. Lui partiva da solo e veramente è riuscito a farsi largo con le sue forze, intrecciando rapporti, con la sua intelligenza, con il suo dialogo, capacità di dialogo...